Sarà la giovane Chiara Vagliano a guidare la Proloco di Sapri per i prossimi anni. L'ufficializzazione è avvenuta ieri sera nella sede del Lente, dove infatti si sono svolte le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo dell'associazione, composto da otto membri che però al momento preferiscono mantenere l'anonimato. Chiara Vagliano, già da tre anni attivamente presente all'interno della Proloco, subentra così all'ex presidente Amalia Bevilacqua a pochi mesi dalle sue dimissioni e con tutte le esperienze necessarie per portare avanti il ruolo affidatole, avendo ottenuto anche la fiducia dei 12 soci presenti alle votazioni. Il primo impegno del nuovo consiglio direttivo sarà ora quello di convocare a breve un'assemblea pubblica aperta a tutti, durante la quale la Proloco divulgherà il proprio programma, con la finalità di condividere con la popolazione e le altre associazioni la costruzione di un progetto legato alle esigenze della cittadina della spigolatrice. Altro impegno assunto, già da subito dal nuovo consiglio, così come era stato promesso, sarà quello di modificare lo statuto perché chiunque possa entrare a far parte operosamente della Proloco, secondo un vero spirito di partecipazione democratica. Grazie. 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 Grazie.